La situazione dei lavoratori e la loro stabilità, i conti di Sogepu, le sponsorizzazioni e le consulenze negli anni di Goracci, ma anche la ripartizione delle quote dentro Sogecco, col 49% a Sogepu e il 51% alla ECE di Granieri. Il caso è stato affrontato ieri pomeriggio nel corso di una riunione fiume della Commissione Controllo e Garanzia, riunita in Comune alla presenza del nuovo CDA di Sogepu. Numerosi punti, alcuni di natura tecnica, che sono stati affrontati nel corso dell'organismo. Tra l'altro, l'intera questione sarà nuovamente affrontata in un prossimo Consiglio Comunale aperto. Intanto, garanzie sulla tenuta dei livelli occupazionali sono venute dal sindaco Luca Secondi durante la riunione di ieri, mentre l'ex sindaco Luciano Bacchetta ha ripercorso la scelta delle ripartizioni delle quote, che venne votata nel corso di una massima sise nel 2019. Durante la commissione di ieri, presieduta da Roberto Marinelli, alcuni esponenti dell'opposizione hanno puntato l'indice contro la gestione economica di Sogepu. che al 31 dicembre scorso presentava un debito da oltre 30 milioni di euro, 17 dei quali verso le banche e 7 verso i fornitori. Su questo punto, i membri del CDA di Sogepu hanno evidenziato che la situazione debitoria sta rientrando, a seguito degli opportunità gli operati su sponsorizzazioni e consulenze. Intanto, il Tribunale del Riesami ha fissato per il 22 di ottobre l'udienza sul ricorso presentato dai legali di Cristian Goracci e Antonio Granieri, che sono ai domiciliari dal 1 ottobre, con l'accusa di corruzione nell'appalto da 350 milioni di euro per la gestione dei rifiuti in Alto Tevere. I legali dei due ex vertici di Sogeco chiedono la remissione in libertà dei due indagati, puntando sull'insussistenza del pericolo di reiterazione del reato a seguito delle loro dimissioni.